Mamma, hai già pensato al regalo per la festa dei nonni? È oggi? Che cosa? Oggi era la festa dei nonni? Aiuto! Devo subito andare a comprare il regalo! Come sono idiota! Come sono idiota! Come sono idiota! Vado, vado, corro un scatto! È sempre la solita. Papazzo, almeno ti sei ricordato che oggi era la festa dei nonni? Sì, ma certo. Cos'è sopra una commissione da fare? Ok, si è scordato anche lui, sicuramente. Oggi era la festa dei nonni, dopo ti manderò fare l'agulare la nonna, anzi verrà qui. Che dici se prepariamo un dolce? Sì, ottima idea così! Non metto l'ora di sapere il regalo che compriamo per le nonne. Già, già! Oh, taffi! Io e mio fratellino abbiamo preparato una spirata per le nonne. Sì, però è che bevassi è pagata, abbiata e bova. Oh, teneroni! Bene, questa era la borsa che voleva mia mamma. Anche io se l'ho pagata 45 euro, 90. Sono a casa, ho speso 45 euro per mia mamma. Ma dov'è Ken? E chi lo sa, secondo me, è andato a fare anche un regalo. Se ne sarà scordato, sicuramente. Aspetta un regalo al sicuro. La chietro. Mi raccomando a tutti, non toccate la mia borsa. Adesso posso rilassarmi in santa pace. Il regalo, il regalo! Devo andare al centro commerciale! Ecco, un bicchiere riciclato, perfetto. Tadà, ecco il mio regalo della festa della nonna. Ma che cos'è? Un bicchiere per lavarsi i denti? Sì, molto utile e ricicloso. Ken, ci vuole una borsa firmata, con degli occhiali, oppure una collana gigante, fantasca, brantinosa. Ma secondo te io metto a spendermi tutti questi soldi? Ma dai! Ti faccio la lista di cosa potresti prendere. Ha detto, scegli una cosa. Va bene, sei tu la femmina. Sei tu l'esperta. Allora vado a riportare al negozio. No, è caduto! Vabbè, fa niente. Questo foulard le piacerà sicuramente, anche se c'erano queste cose nel centro commerciale. Perfetto! Bene, fammi il regalo. Eccolo qui, un bel foulard, tutto rosa. Perfetto! Quanto l'hai pagato? 27 euro? Vabbè, fa niente. Posalo lì. Permesso, permesso, ti mandate in una cucina super cosa e abbiamo preparato questa torta. Già, e l'abbiamo anche assaggiato un pettettino, poi l'abbiamo in mezzo alla panna. Squisita, eh! Non vedo l'ora... Ai! Meno male che non è caduta. L'abbiamo assaggiato un pettettino e sicuramente a lei non ne piacerà. Mi sono anche vestita elegante. Wow! Beh, aspettiamole! Yeah! Beh, metto la torta qui. Perfetta! Tutti pronti per fare la sorpresa? Sì! Din don don! Solo loro! Salve! Guardate i miei stivali che mi hanno regalato! State contenti dei miei stivali nuovi? Super! Tanti auguri! Tanti auguri, mamma! Grazie, tesoro! Mua! Mi siedo qua! Salve, tesori! Sorpresa, mamma! Tanti auguri! Oh, grazie! Non dovevate! Avete visto le scarpe che mi hanno regalato? Che bella acconciatura che hai! Me l'ha fatta la parchiera! Avete visto le mie scarpe? Super belle, mamma! Anche noi abbiamo fatto un regalo a lei e un regalo a te! Io, comunque, non sono lei! Mi chiamo Natascial! Io, invece, mi chiamo Maria! Dai, fatemi vedere il mio regalo! Già, anch'io voglio vedere il mio! Che curiosità! Si inizia la torta! Oddio, ma è fantastica! Wow, grazie! Non dovevate! Invece sì che dovevano una fame dei lupi! Iniziamo dal tuo, cara! Ok! Ta-da! Una borsa firmata gialla! Oh, mio Dio! Era proprio quella che volevo! Grazie mille, tesoro mio! Ok, adesso passiamo al mio regalo! Speriamo sia bello! Tu non sei molto bravo nei regali! Dov'è? Ups, l'ho lanciato bene! Oh, la rosa, grazie! Avevo proprio il mati coraggio! Grazie! Adesso riesco anche a parlare meglio, aspetta! Oh, grazie! Adesso riesco a parlare meglio! Già, grazie mille dei regali! Bene! Buona festa della nonna a tutti! Ciao! Uh-huh! Buona festa della nonna a tutti!